Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo unboxing e recensione candela Alibo E si, Alibo è la bontà che si gusta ad ogni età Questo è il famoso slogan che sentiamo in tutte le uscità delle famose caramelle e dolci Alibo Ma ragazzi, ho scoperto una cosa veramente particolare e soprattutto super interessante Che ho voluto assolutamente acquistare per recensire e fare insieme a voi E ho scoperto che l'Alibo, da molti anni, fa anche le candele Le candele che dovrebbero essere al profumo dei dolci E infatti ho detto, no, devo assolutamente averne una nella mia collezione Anche perché io sono ancora il suonista di candele Mi piace andare a supernome anche di candele Perciò ho visto le candele Alibo e ho detto, no, devo provarle E averne una strumenta nella mia collezione per poi recensire su YouTube E infatti così ho fatto l'ordinata In due giorni mi è arrivata e ce l'ho bella pronta ad unboxare insieme a voi Adesso la unboxiamo E la tessiamo perché sono troppo curioso del risultato pure io ragazzi C'erano vari set su Amazon, ma io ne ho scelta una grande Ma se dovessero essere buone, penso che qui sarò anche un set Ne ho scelta una grande, l'ho pagata 22 euro circa Che per essere una Giovanna Bianca un prezzo ottimo Anche perché molti marti le fanno anche più costose, diciamo, le medie E' arrivata molto, molto bene, molto imballata Quindi è un fatto positivo Ragazzi, c'è un profumo di frutto di bosco E' arrivata tutta integra grazie al doppio imballaggio In bravi Amazon, bravi che ti ho messo al doppio imballaggio Così meno vedate che si rompa i valotti Di vetro con acidi Eccola qua ragazzi Aribo Berry Mix Guardate che carina Duft Cans Aribo In Vien, Wint and Duping and Nuts Io ho scelto appunto questo gusto qua ragazzi Ed è appunto ufficiale Aribo Non è un fail perché appunto Amazon la vende Comunque è un ufficiale Aribo Io ho scelto Berry Mix Ovvero Mix di roti di bosco Oddio ragazzi E' Cioè Di che stiamo parlando E' veramente la caramella Aribo Gli orsetti gommosi Aribo Trasportati e coniugati all'interno di una candela Sa proprio tantissimo di lampone, di mirtillo Di quel classico mix Ai frutti di bosco Che troviamo nelle calamelline Aribo come vorresti Infatti qua adesso sono alcuni lamponcini Quelli ai ribes, quelli alla fragola Quelli al mirtillo Un mix di profumi ragazzi Veramente veramente deliziosa Questa qua la andrò a tenere subitissimo Qua esposta in camera Non l'accenderò ragazzi Perché questa è la collezione Penso proprio che acquisterò anche la versione tropicale Perché io amo le fracanze fruttate E quindi volevo acquistare la versione tropicale Poi magari quando l'acquisterò Recensirò anche quella Perché qui avendo un sito completo Quindi riceverò altri due gusti insieme Quindi se ragazzi ti prenderò Sieta di anche qualche ragenzione Perché Sono rimasto piuttosto soddisfatto La fragranza non è così persistente Ma è giusto che sia così ragazzi Anche perché Cioè Le caramelle non sono persistenti come Olfatto Ma sono persistenti come gusto Questa è una caramella in versione candela Super 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 figa Brava Aribo Che ho delle caramelle Anche le candele E tra l'altro Super Che sono estremamente Ma estremamente rara a trovare ragazzi Gli ho dovuto prendere su Amazon Perché poi in cedito io Non c'era nessun negozio Che le vendesse E quindi Tutto da prendere su Amazon Però Amazon è una bella scorta Ci mettono tanto da rilare ragazzi Questa è la pecca Ci mettono tanto da rilare Questa qua Quella che la consiglio più breve Ci mettono a due giorni Ma invece i 6 Ci mettono anche molto più Tipo una settimana Ma comunque Prenderò anche sempre Perché sono rimasto sorpreso Quindi Qualcun'altra rilare Ma che la prenderò Recensione Più che positiva Anche le parole carine La chiamare candele O anche le parole carine A chiamare novità come me Questa qua E' una attenzione Più che approvata Kids and grow ups love its own The happy world of Alibo Il mondo felice di Alibo I dei bambini che crescono Amano i malo felici di Alibo Questo premio è stato riscritto A quest'opera E' veramente buonissima Quindi la attenzione Perché approvata L'hanno assolutamente La mia collezione E prenderò anche Da verso la tropicara Nel set Quindi ragazzi Che dirvi Sperate nei commenti Cosa pensate Questa candele a Alibo Se l'avevi già provata Se sperate Che esistesse E niente Se vi piuttosto Iscrivete il like Iscrivete il canale E poi ci vediamo al prossimo E' un prossimo video Bye